Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con AW By The Numbers, io sono Stefano, dall'altra parte della telecamera c'è Michele, siamo coadiuvati ovviamente in questo programma da Sara, che è quella che raccoglie i dati e ce li fornisce in modo tale che possiamo poi venire a raccontarvi in base al personaggio, insomma, quello che è il percorso all'interno dell'All Elite Wrestling. Oggi ovviamente andremo a parlare di Puck. Benvenuti quindi, oggi ultima puntata, diciamo, estiva, perché da questo momento in poi ci prenderemo qualche settimana di pausa, torneremo nella settimana dopo All In, in modo tale che il mese di agosto tiriamo un pochino le somme su alcuni dei personaggi di cui abbiamo già parlato, e cercando poi ovviamente di trovare tutto quello che sarà il resto delle cose da dire, beh, chiaramente siamo qua per aggiornarvi su quello che è uno dei personaggi chiave della storia dell'All Elite. Chiave perché in realtà, nonostante vedremo che il suo debutto è un pochino più in là, già dalla primissima conferenza stampa c'era stato un faccia a faccia tra Puck e Hangman Page che ci aveva fatto pensare e subodorare, anche per alcune cose in realtà che avevano detto durante quella conferenza, che poteva essere la prima faida per il titolo proprio Puck contro Hangman. Da lì in poi? Beh, da lì in poi bisogna aspettare un attimino perché il debutto della All Elite Wrestling, nonostante la sua firma sia venuta praticamente da subito, è stato il 31 agosto del 2019 a All Out, ovviamente del 2019, e tutto stando oggi ha fatto fare in All Elite 1793 giorni a Puck. In realtà questo dato non è molto vero, nel senso, con grande ricerca certosina, sarà trovato che in questi cinque anni non è che sia stato proprio tutti i giorni lì presente il buon Puck, i periodi d'assenza maggiori sono stati dall'11 marzo al 18 novembre 2020, 252 giorni, dall'11 giugno al 10 settembre 2021, 91 giorni, dall'11 gennaio al 19 luglio 2023, altri 189 giorni, dal 26 luglio 2023 al 13 marzo 2024, 231 giorni. Totale, non spaventatevi, 763 giorni, circa due anni. Tantissimo tempo fuori dagli schemi. Infatti, quanto ha lottato? Beh, per essere stato così tanto tempo, poco. Un totale di 75 incontri per Puck, 36 in singles, 8 in tag, 23 trios, poi una battle royal, un three-way, un seven-way leather match, un 4 contro 4, due four-way, un 5 contro 5, blood and guts, e una casino gauntlet, quelle per decidere ovviamente gli sfidanti. Gli incontri disputati sono stati 50 a Dynamite, 8 a Rampage, 3 a Collision, 1 a Battle of the Belts, e 13 in pay-per-view. Ha vinto 42 incontri, quindi il 56%, ne ha persi 31, il 41,33, e ne ha pareggiati due contro Moxley e contro Cassidy, per un totale del 2,67%, mentre in pay-per-view ne ha 27, persi 6, vinti il 53,85%, persi il 46,15. Ha aperto gli show televisivi per 14 volte, una volta invece in pay-per-view a Dynasty del 2024. Sono stati 10 a Dynamite, 3 a Rampage e 1 a Battle of the Belts. Ha invece fatto 19 main event, 14 a Dynamite, 4 a Rampage e 1 a Collision. La durata media degli incontri è 14 minuti e 34 secondi, 12 minuti e 10 con le vittorie 17,54 con le sconfitte, 13 minuti e 6 secondi per i pareggi. Gli incontri titolati hanno avuto una durata media di 15 minuti e 47 secondi, il suo incontro più lungo, ovviamente è stato quello del Blood and Guts 2023 con 51 minuti e 15 secondi, ma noi calcoliamo soprattutto i match in singolo, quindi quello contro Kenny Omega nel 2020 da 30 minuti e 58 secondi. Per quanto riguarda il match più corto, ce ne sarebbe uno più corto insieme a Fenix contro D3 e John Skyler da un minuto circa, ma ce n'è uno in singolo con Encore Moore da 2 minuti e 34 secondi. Ha disputato in totale 14 incontri titolati, 5 per l'All Atlantic che poi è diventato International, esattamente dopo che Pac l'ha perso, 1 per il titolo Continental, 1 per il titolo Tag, 1 per il titolo IW e 6 per i titoli Trios. Di questi ne ha vinti, di questi 14, 8 con il 51,14% di risoluzioni positive, ne ha persi 6, 42,86%. In contro i titolati si sono svolte 7 volte a Dynamite, 1 a Rampage, 1 a Battle of the Belts e 5 volte in pay-per-view. In tutto lui ha avuto due regni, 1 con l'All Atlantic oggi International, durato 108 giorni, e un altro nella categoria Trios, durato 126 giorni. Ovviamente è stato campione di una e dell'altra cintura, quindi Double Champ, per 35 giorni, che ovviamente non abbiamo sommato, ma in realtà abbiamo sovrapposto, per un totale di tempo passato con le cinture, pari al 199 giorni di attività. Ha difeso con successo il titolo all'Atlantic per 3 volte, con un incontro con una durata media di 12 minuti e 28 secondi, e altre tante volte ha difeso i titoli Trios, con incontri leggermente più lunghi, 14 minuti e 47 secondi. È stato campione il totale dell'11,10% del tempo trascorsi in All Elite, ovviamente un giorno ogni 10 più o meno, con il 6,2% con il titolo all'Atlantic e il 7,03% con il titolo Trios. Poi sapete che i giorni sovrapposti, è chiaro. La differenza quindi dei due titoli è dovuta proprio al fatto che ci sono stati dei giorni sovrapposti. Se si escludono i periodi di assenza, però il tempo totale del campione sale al 19,32%. Quindi vuol dire che un giorno ogni 5 lui è stato campione, 10,49% come campione all'Atlantic e 12,23% come campione Trios. Questo è anche un po' a sottolineare il fatto che, sì, è vero, Pac, secondo tanti, ha vinto poco in All Elite, ma non è così vero. Perché con tutti i giorni in cui è stato via e i giorni in cui è rimasto, ce ne fosse di gente che è rimasta campione per il 20% del suo tempo passato in compagnia. Ha lottato 17 volte in incontri contro l'Ottatore Under 30 per un totale del 22,67% degli incontri totali. I suoi compagni preferiti sul ring, ovviamente quelli del Death Triangle, ha lottato 26 volte con Penta e 23 volte con Ray Fenix, periodi diversi in base ai infortuni di uno o dell'altro. A parte loro, ha lottato con, contro, la maggior parte delle volte, a John Moxley per tre volte. Gli avversari preferiti, ovviamente, sono stati, anzi, in realtà con Moxley, solo con. Gli avversari preferiti sono stati quelli dell'Elite, con cui ha lottato in più riprese attraverso il suo percorso in All Elite per 15 volte, sia con Kenny Omega che contro gli Young Bucks. A parte loro, i lottatori che ha affrontato il più sono stati Orange Cassidy, Pac è stato anche il primo match di Orange Cassidy, 8 volte, e Malakai Black contro cui ha lottato 7 volte. Le sue rivalità più importanti, manco a dirlo, è stata quella con l'Elite, con Orange Cassidy, poi c'è stata quella con l'House of Black e adesso, recentemente, con il ritorno in azione l'ultimo, un po' di più con la Bang Bang Gang e ovviamente quello che è stato Okada, che in realtà è ancora Elite, perché appena è tornato voleva il match con Okada. Ovviamente adesso andrà verso un altro titolo, avrà il suo momento a Wembley, quindi ci sarà modo poi, da qui in poi, immaginiamo noi, di partire con altri tipi di rivalità. Ovviamente, fermo restando che lui abbia del tempo utile per fermarsi in All Elite, se non ce l'avrà, non potremo farci moltissimo. Ci sono anche 4 curiosità su di lui, la prima è che nel 2023 Pac ha disputato solo 3 incontri, uno in singolo, uno in trios, e il Blood and Guts non ha lottato in nessun pay-per-view. In realtà ha lottato in un pay-per-view, ma della Ring of Honor, che quindi non c'entra col nostro computa. Curiosità numero 2, da gennaio 2023 a marzo 2024 ha saltato 9 pay-per-view di fila. Non è bello, però se lui è a casa è così. Terza curiosità, ha lottato per tutti i titoli maschili, ad eccezione del TNT, ed è stato il primo campione all'Atlantic, che poi ora è International. Quarta e ultima curiosità, oltre agli incontri disputati in televisione e in pay-per-view, ha lottato anche 10 volte a Dark e 6 volte a Dark Elevation, quindi comunque uno di quelli che si è mostrato anche un po' su YouTube. Questo era Pac, questi erano i dati su Pac, ovviamente torneremo con altri dati su altri campioni, ex-campioni, futuri campioni, su statistiche di vario tipo, già dalla fine del mese di agosto e poi da settembre in poi. In questo progetto che è molto ambizioso, quello di raccogliere dati e venirveli a portare, un progetto che ha delle difficoltà oggettive, da un punto di vista del tempo e della risoluzione di tutte queste cose qui, ma che ci piace ovviamente fare, quindi lo facciamo volentieri. Grazie cuore a tutti quanti voi che avete seguito, grazie a Sara che ci ha fornito i dati, a Michele che ha sistemato il video, ovviamente se col By The Numbers ci rivediamo tra qualche settimana, con tutti gli altri video di AW Italian Podcast, beh, non dovete far altro perché sintonizzarvi ogni giorno, ogni giorno qualcosa, vi ritroverete. Davvero grazie di cuore a tutti, io sono Stefano La Voce di AW Italian Podcast, noi ci rivediamo. Alla prossima.